L'11 ottobre si è tenuto alla Memoteca di Fano un seminario dal titolo Cultura e Welfare Beni Comuni, in occasione del decennale di Liberamente di Fano, un'associazione di cittadinanza che tutela e si batte in favore delle persone con disagio psichico. La risposta ambientale costa molto meno di quella chimica. Esordisce così Vito Inserra, presidente dell'associazione, il cui slogan dice «Ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo», una frase di Franco Basaglia. In occasione del decennale, Liberamente di Fano ha ideato un bollino per la certificazione delle aziende private che si mettono in regola con la legge 68-99 per l'inserimento professionale di disabili. Sono intervenuti esponenti delle amministrazioni pubbliche, come Marco Lucchetti per la regione Marche, Massimo Seri per la provincia, amministrazioni pubbliche che nonostante siano attualmente escluse dagli obblighi della legge 68-99, devono impegnarsi comunque nel rispetto di un obbligo etico e morale. Hanno preso parte al seminario anche organizzazioni sindacali, Loredana Volpi per la CISL e imprenditori di aziende, ad esempio la ISA Infissi di Calcinelli, oltre a cooperative di tipo B tra cui la Gerico con Andrea Ceccarelli. A chiudere la conferenza, le parole toccanti del dottorenzo Corso, che in qualità di familiare di un utente ha sottolineato l'importanza del far seguire i fatti, anzi le leggi, alle parole. Ci vuole un'alleanza di tutte le forze, sociali, politiche, dei professionisti della salute, degli utenti, dei familiari, per trovare soluzioni. Se no, si torna all'amara profezia di Mario Tobino, che alcuni decenni fa disse, se non c'è un po' d'amore per queste persone, con i farmaci non faranno che sostituire la camicia di forza indumento con una camicia di forza chimica. Chi volesse saperne di più può informarsi sul sito eliberamentefano.com